DGS è un primario operatore nell'ambito della sicurezza, siamo un gruppo di 500 persone con 8 sedi in Italia e siamo tra i principali punti di riferimento nell'ambito della sicurezza per l'Italia. Quindi oggi si tratta il tema della cyber security, vediamo come DGS interpreta questa tematica in chiave moderna come quella proposta da Intel Security. Per DGS la cyber security rappresenta un'ulteriore opportunità di crescita e di sviluppo delle proprie competenze che ha sviluppato nell'ambito della sicurezza principalmente perimetrale. L'approccio alla cyber security richiede un approccio dinamico che sia orientato ai servizi che fruiscono oggi gli utenti collegandosi tramite qualsiasi dispositivo ad internet, un approccio quindi che debba essere dinamico, adattivo e non invasivo verso il cliente. Per dare una risposta concreta a questa problematica abbiamo definito una metodologia che è in grado di mettere in sicurezza l'intera infrastruttura IT del cliente per l'erogazione di questi servizi. Siamo a un evento Intel Security, a casa di Intel Security, vediamo che relazione avete in essere con questo vendor di sicurezza e diciamo il valore di questa partner. Oggi DGS è Platinum Partner di Intel Security e come dicevo precedentemente la nostra metodologia prevede un approccio in grado di coprire tutti gli aspetti dell'infrastruttura del cliente. Intel Security ci fornisce un pieno supporto a questa nostra necessità avendo creato un ecosistema di soluzioni integrate in grado di poter agire a qualsiasi livello dell'infrastruttura garantendo a noi una soluzione tecnologica che implementa i nostri progetti.